Grazie, Presidente. Allora, chiamarla riforma io credo che sia offensivo, perché questo è un compitino commissariato da Bruxelles per mandare avanti le riforme abilitanti, ovvero quelle che servono per mandare avanti il piano d'attuazione del Recovery and Resilient Facility. Ma non serve ad apportare un servizio, un contributo fattivo ai cittadini, ai contribuenti, agli operatori del settore come commercialisti, ragionieri e tributaristi. Quindi questa la possiamo definire come una riforma dei no altri, cioè un'inezia rispetto invece alla grande riforma che ci fu negli anni Settanta, che apportò numerose modifiche sostanziali al nostro ordinamento tributario. Purtroppo è stata una grande occasione persa, perché noi abbiamo presentato delle proposte emendative qualificanti che sono state puntualmente bocciate dal Governo e da questa raffazzonata maggioranza, come ad esempio allinare la pressione fiscale alla media europea, che avrebbe agevolato le famiglie, i cittadini, le imprese. Avremmo fornito 1.500 euro di più l'anno, che in un momento di crisi come questa sicuramente avrebbe dato un valido sostegno aiuto. E in realtà rimarrà che questo provvedimento porterà l'aumento sulla tassazione delle case nel 2026. Un'altra proposta che noi d'alternativa abbiamo provato a far passare è il carry back. Dietro questa parola così difficile si cela semplicemente la trasformazione delle perdite di bilancio in crediti, certi liquidi ed esigibili, da utilizzare immediatamente in compensazione per pagare le imposte, contributi e tasse. Questa, tra l'altro, è una norma voluta dalla Commissione europea che, misteriosamente, non è stata neanche presa in considerazione da questa maggioranza. Un'altra proposta importante che noi abbiamo portato in Commissione e anche in Aula è l'autorità fiscale di garanzia, che avrebbe messo fine allo strapotere dell'Agenzia delle Entrate e avrebbe restituito dignità allo Statuto del Contribuente, che è stato violato centinaia di volte. E io vorrei ricordare a tutti che è stata rimessa un'altra norma per la seconda volta, la norma che vieta la pubblica amministrazione di chiedere i documenti ai contribuenti. Noi l'abbiamo fatto nel 2019 con il decreto crescita e l'Agenzia delle Entrate l'ha smontata nuovamente e quindi è stata sempre in una alternativa e l'abbiamo dovuto riportare in auge. Perché? Perché, ad esempio, c'è la dichiarazione sugli aiuti di Stato che sta mettendo in seria difficoltà gli studi dei commercialisti e dei tributaristi. Io dico che di questa riforma cosa resta? Resta semplicemente la doppia rendita catastale, che si prepara un aumento di una patrimoniale. Io dico che un Paese che ha grossi problemi dovuti prima alla pandemia, oggi al conflitto della crisi ucraina, qual è la norma pregnante di questa riforma? L'aumento della tassazione sulle case. Ma è davvero incredibile quello che state facendo? Perché lo fate con una logica ben precisa? Perché a oltre 2.700 miliardi di debito pubblico si aggiungeranno anche i debiti che stiamo contraendo col PNRR e qualcuno prima o poi li dovrà pagare. E li pagheranno i cittadini aumentando le tasse sulle loro case, sulle loro abitazioni. E allora io, di fronte a tutto questo, vi dico che noi voteremo contrariamente a questa pessima riforma. Perché resta una grandissima delusione rispetto alle aspettative che dovevano essere concretizzate. E' una grande delusione da parte degli artigiani, dei commercianti, dei cittadini comuni, delle famiglie, che si aspettavano molto, ma molto di più. E invece l'unica cosa che resterà, come abbiamo già ripetuto, sarà la tassa sulle case a partire dal 2026. Questa è l'unica certezza che rimarrà di questa schiforma.